non è bianco è marroncino no è un gufo o un allocco dove sta? là dove sono andati loro il barbaglino è bianco cioè è chiaro è molto più grande è un bel animalotto penso che entrava quando stavamo lì ma noi l'altra volta l'altra volta è volato via penso che se vuoi è un'altra passata perché io fareggio con la mano non so l'altra che eh no mi metto è passata proprio insomma mi metto un po' di apprezzione i rifoni a casa della sua l'avete mai visto? no bene quelli sono veramente una cosa spettacolare io ho visto il capovaccaio a Tolfa lì a rivamagliata se ne vedono molti più verso a lumiere c'è un punto dove gli danno da mangiare la frustale la massa dei grossi? a giganteschi tipo l'aquila brutti non c'è bisogno di stare così ma non c'è bisogno di stare così ma non c'è bisogno di stare così ma mi metto non c'è bisogno di stare così ma wenn lo so buurtti può pesca 까요 dial nicht va vai guarda Pepa chier che chier 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 Grazie a tutti. Ma nemmeno vedi quello che stai riprendendo. Ma c'è un disegno adesso? Eh no. Ah appunto, quindi prende un po' occhio così. E neanche trema perché è un problema, per esempio, con la difesa come fai te, che dopo un po' uno si stanca. Infatti, hai visto io ogni tanto cambio braccio perché mi stufo. E' peggiore inevitabilmente la qualità della persona. Eh no, perché queste sono fatte pure per, insomma, la mette sopra i caschi quando uno va in moto. Così, quindi c'hanno... Io la volevo comprare, però poi ho stato per una tradizionale, sempre un po' sportiva. Perché ancora non ho ben capito poi in che modo uno lo deve usare, sempre quella rampicata. Succa. Per uscire va bene perché uno sta a mettere in determinati posti, poi ho anche la discesa tra quel tipo di riprese. Però la rampicata... Lo ecco, l'acqua? Lo ecco, l'acqua, l'acqua? L'acqua è un po' di più, l'acqua? Ehm, sì. Sì. Grazie. Sì. A seguire passo passo. Bravo. Ok. Sarà pure abituato. Infatti ci ha tenuto sott'occhio. Appena siete andati via, ho visto. Dopo un po' è andato là. Sì, è andato. Peno male, posso ritornare dai piccoli. Sicuramente abituato. Eh beh, per forza, sennò... Com'è c'è il pietigello adesso? Andare a coprire. Freddo. Eh beh, pure questo è fatto, eh? Qua. Ok. Sì. Togli li... Ah. No, io... Te li lascio all'acqua. Guarda, guarda. corda Oh, che paura era lui. Oh, non mi ne raccorda. faticosa è andata sto rubata ok ha spento?